Ciao ragazzi, sono qui per farvi un piccolo video sulla fragranza che ho acquistato l'altro giorno da Tigotà ed è Rem di Remines Sans Allora, non mi sono preso le note olfattive perché volevo descriverlo per le mie sensazioni, per quello che sento e quello che penso Allora, ho acquistato Rem di Remines Sans appunto da Tigotà perché era uno di quei profumi che volevo acquistare da tanto tempo ma non ero sicuro al 100% quindi dicevo l'acquisto, non l'acquisto, l'acquisto, non l'acquisto, l'acquisto, non l'acquisto, l'acquisto, non l'acquisto e l'ho acquistato, ebbene sì però ho detto prendo un 20ml che era una limited edition diciamo, penso perché è un profumo talmente particolare, giusto appunto il motivo per cui non sapevo prima se acquistarlo o non acquistarlo allora ho detto senti, nel dubbio, nell'indecisione, compriamoci sto benedetto Rem, lo compriamo e se poi in futuro mi piacerà e sarò soddisfatto, davvero, poi acquisterò o il 50 o magari anche perché no, 100ml e vedremo allora first impression, Rem by Remines Sans allora innanzitutto si presenta, bellissimo, nel senso che questo è un Pore Spray Whip Pocket cioè con la sua astuccio, quindi da borsetta, in pelle, bellissimo, qua non so se vedete, Rem in Sans Paris allora, esce fuori ed eccolo qua, Rem by Rem in Sans allora, vedete che lo sto già utilizzando, un pochino è sceso allora mi sta piacendo, giuro, mi sta piacendo da morire in questo momento è un profumo fresco, ozonato con note acquatiche marine ha dentro probabilmente appunto delle molecole che ricreano io sono perdono prima di iniziare appunto per la mia ignoranza, nel senso che so che ci sono tantissimi appassionati di questo profumo io sinceramente avevo appunto letto una volta scusate le note del profumo ma appunto io volevo descriverlo, provare a descriverlo per la mia percezione olfattiva perché è veramente tanto particolare mi sta piacendo sa davvero di mare questo profumo è strano e mi ricordo che le prime volte, i tempi che lo senti, non mi piaceva era disgustoso per il mio naso era veramente disgustoso eppure adesso mi sta piacendo forse perché è una cosa così insolita diversa da tutto il resto dai soliti profumi c'è un profumo che sa di mare un profumo che ti porta proprio al mare quando sei qui che vivi in montagna tra le valli nel mio caso vabbè non abito poi in montagna abito una valle diciamo e vuoi andare al mare basta che fai così e sei al mare in qualche maniera col pensiero e con il senso dell'olfatto te lo puoi permettere allora mi sta piacendo e allora innanzitutto devo dire che questo veramente rimane addosso tutto il giorno veramente è un profumo molto persistente nonostante sia una Eau de Toilette è veramente tanto tanto persistente poi io sento veramente tanto allora è una fragranza che secondo me è abbastanza monotematica nel senso che io più che questa nota appunto di questa nota marina non avverto io mi ricordo che c'era una piramide non è un profumo monotematico ma io sinceramente quello che avverto è questo odore statico di mare e mi piace ripeto però non sento come negli altri profumi un'evoluzione sento questo odore che a me piace ripeto però piatto cioè non avverto delle note olfat cioè non avverto altri tipi di note come posso sentire in altri profumi sento la profumazione del sale del mare un profumo acquatico fresco veramente veramente molto particolare mi piace eppure a tanti non piace non so io penso davvero una cosa penso che bisogna sentire col proprio naso tante 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 volte un profumo non è che ce li dobbiamo far piacere per forza perché ci sono dei profumi scusate mi è cascato giù il coso che cazzo quando c'è voce ci sono dei profumi che non è che ce li possiamo far piacere per forza però sai quando magari sul momento dici non mi piace però c'è qualcosa che e anche a me questo non piaceva però va qualcosa che mi attirava eppure infatti alla fine ho acquistato il piccolino e vediamo se ora della fine della boccetta magari poi arriverò alla fine della boccetta o magari arriverò a metà che dico non mi piace più mi nausea non fa più per me mi è piaciuto era la novità però non è il mio profumo che ne so cioè queste cose così sapete no comunque sicuramente è una cosa veramente insolita particolare mi sembra che questo profumo sia del 96-97 qualcosa del genere ed era un profumo che si trovava inizialmente solo da Sephora 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 come si pronuncia ancora non ho capito cioè non che fosse diciamo cioè che io sappia era proprio un'esclusiva da Sephora ormai si trova non dico dappertutto perché non ce l'hanno tutti i Reminescence però è molto più reperibile sicuramente rispetto al passato comunque dicevo appunto che vedremo appunto testandolo provando se potrà entrare nelle mie cerchie perché appunto ripeto ho voluto fare questo acquisto proprio un acquisto diciamo mini proprio per vedere come come sta su me se mi potrà piacere ora che mi sta piacendo e anche in futuro quindi ragazzi è buono mi sta piacendo tanto l'ho già detto sono ripetitivo lo so io comunque ripeto non avverto mi ricordo ecco mi ricordo che c'era forse dentro del non mi ricordo se c'era non mi ammazzate perché veramente chi è esperto chi ama questo profumo mi prenderà a sverre se dico qualche stupidaggine qualche cagata io mi ricordo che sicuramente c'è del muschio sulla base non muschio animale muschio e forse della minfea non mi ricordo però io ripeto sento questo odore l'odore che io sento dallo spruzzino qui è l'odore di quando lo vado direttamente sulla pelle e mi rimane questa profumazione cioè molto molto persistente però ripeto non avverto un'evoluzione non avverto una piramide olfattiva cioè delle note di testa che poi nel cuore c'è qualcosa di differente piuttosto che nella base io avverto la profumazione di queste note ozonate marine fresche saline dall'apertura alla chiusura del profumo sicuramente non era una piramide complessa adesso ripeto non ricordo perché appunto volevo fare una descrizione personale della mia percezione olfattiva riguardo a rem di reminessans però mi piace e l'ho già detto dieci volte minimo ragazzi niente se vi capita di andare in giro da tigota appunto lo hanno se vi capita di andare in giro cioè sentitelo perché secondo me può non piacere però vale la pena almeno di vaporizzare questo profumo sulla pelle perché è qualcosa cioè ti dà delle sensazioni poi che piaccia non piaccia però va provato e secondo me questo qui è uno di quei profumi che va provato tante 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 volte nel momento in cui voi avete magari nel mio caso come dicevo io che dici non mi piace però qualcosa che mi attira poi se a priori proprio non vi piace non potrete farvelo piacere sicuramente però mi piace e vengo ragazzi vi mando un grosso bacio e a presto ciao